Silvia Persico, team Valkar, campionessa provinciale dell'esordiente del primo anno. Ti aspettavi questo risultato? No, non me l'aspettavo. Pensavo che vinceva la mia compagna di squadra a media media. Raccoltaci un po' come è andata. È andata via questa fuga? È andata via la fuga a primi chilometri. La mia squadra non c'è uscita a entrare. Poi ho potentato in primi chilometri, ma niente. È andata via. La dedica per questo importante maglia chi va? Alla squadra. Prosegue dalla tua stagione. Hai qualche obiettivo in particolare? E è vincere e andare a entrare.